Ancora un buco nell'acqua per le sorti dei lavoratori della Rolli Alimentare di Roseto. L'incontro, fissato per ieri con i vertici aziendali, i sindacati e rappresentanti delle istituzioni abruzzesi, non ha portato ad alcuna decisione. Sembra infatti che a far saltare il tavolo di concertazione sia giunto un improvviso lutto nella famiglia Rolli. Lutto che ha poi impedito ai vertici di presentarsi, così da lasciare ancora senza soluzione ben 800 lavoratori tra fissi e stagionali. Noi siamo qui a cercare di difendere l'occupazione in questa città, il posto di lavoro di questa gente che da decenni lavorano presso le industrie Rolli. Bisogna coniugare le due legittime attese, quelle dell'impresa e quelle dei lavoratori. Crediamo che si possa fare e ieri mattina c'è stato questo tavolo istituzionale che è stato formalizzato, che adesso esiste, che è stato riconosciuto come l'unico tavolo istituzionale deliberato dal Consiglio Comunale della nostra città all'unanimità. Quindi noi abbiamo fatto la seduta di insediamento, la ditta non si è presentata, aveva avvisato precedentemente. Ecco, successivamente adesso noi auspichiamo che la ditta si sieda e si debba sedere a un tavolo per cominciare a ragionare concretamente di quelle che sono le strategie, i piani industriali e le prospettive dell'azienda nel nostro territorio. L'incontro è stato rimandato. Si dovrà stabilire una nuova data per giungere a un accordo tra i lavoratori che non vogliono vedere scendere vertiginosamente i loro compensi con la conversione del contratto di lavoro, come richiesto dall'azienda, in contratto agricolo, meno oneroso per il datore di lavoro da un lato, ma meno remunerativo per i lavoratori dall'altro. Questa data verrà definita successivamente a quando la regione avrà definito le istruttorie amministrative su certe pratiche che le industrie a rolli hanno presentato presso la regione Abruzzo. Però, ripeto, per sedersi a un tavolo è indispensabile che ci si sieda anche la proprietà, perché altrimenti parliamo senza l'attore principale.